Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo del nuovo Osprey Stratos da 34 litri, uno zaino molto particolare soprattutto per il sistema di apertura nella parte superiore, uno zaino che mi è piaciuto abbastanza ma che ha dei punti negativi anche abbastanza importanti che naturalmente andrò a riportarvi nella recensione completa. Iniziamo la recensione per un attimo della gamma Stratos perché questo è un modello molto particolare, il 34 presenta un'apertura molto particolare nella parte superiore cosa che non c'è sugli altri modelli di Stratos, quindi sul 36, su quello da 40 o litraggi inferiori non c'è, quindi questo è proprio uno zaino unico anche all'interno della sua gamma ed è uno zaino che pesa un chilo 390, sfiora il chilo e 4, che è un peso per uno zaino a 34 litri tutto sommato giusto. Certo esistono degli zaini che sicuramente pesano di meno però portato sulle spalle diciamo che il peso singolo dello zaino non inficia tanto. Inizio la descrizione di questo zaino come al solito dallo schienale. Lo schienale che forse è la cosa che mi ha convinto meno perché qui troviamo tutto il sistema hair speed di Osprey per andare a togliere il sudore e questo non mi ha convinto tantissimo. Le vedete queste parti laterali attorno alla rete? Ecco quando sono andato a sudare in giornate particolarmente calde tutte queste parti ma anche sotto è una parte inferiore soprattutto lo faccio vedere di qua da questa parte anche la tasca si sono completamente inzuppate di sudore. Cioè questo zaino praticamente aveva assorbito tutto il mio sudore naturalmente non nella parte rete perché qua essendo distaccato rispetto allo zaino va a evaporare l'aria lo porta via ma sotto il resto sapete davvero quanto si è impregnato di sudore e questo mi fa tendere a dire che è uno zaino che si lavora anche abbastanza bene comunque la rete in mezzo lavora bene però non ve lo consiglio in giornate particolarmente calde. Diciamo che a livello di temperatura questo zaino lo utilizzerei al massimo 25 gradi poi dipende naturalmente anche il tasso di umidità però a 25 gradi la schienale riesce ancora a dissipare il nostro sudore ma sopra no inizierà come dicevo impregnarsi del nostro sudore e poi sarà anche abbastanza spiacevole rimetterselo addosso. Per quanto riguarda invece la regolazione dello zaino in altezza troviamo un sistema molto semplice composto da una clip che va a incastrarsi nei suoi appositi spazi funziona bene non ho avuto nessun problema anche con alto carico io questo zaino l'ho portato con 10 kg addosso non ha dato nessun tipo di problema e anche tutte le fettucce che vanno a comporre la possibilità di alzare abbassare lo schienale non si sono logorate o rotte. Ma scendendo a questo punto arriviamo a parlare della zona lombare e che dire allora dal punto di vista della traspirabilità anche ho avuto lo stesso identico problema come vi dicevo anche le tasche pur essendo comunque staccate le tasche dall'interno perché naturalmente c'è spazio dove potete infilare gli oggetti anche questi sono impregnati di sudore. Per quanto riguarda invece lo scarico del peso anche qua non mi ha convinto particolarmente come dicevo l'ho portato con 10 kg addosso e sentivo abbastanza male penso che il limite di questo zaino siano gli 8 kg non andrei oltre già a 9 e inizia a sentirsi abbastanza sulle spalle e quindi anche qua lo scarico del peso non mi ha convinto al 100% sia per quanto riguarda lo scarico che la traspirazione diciamo che come voto gli darei un 6 sufficiente ma non oltre. Per quanto riguarda invece la parte di tasche troviamo due belle grosse tasche sulla fascia lombare in cui ci stanno davvero tanti oggetti e mi piace che ci insegnano due. Ci stanno benissimo davvero tanti oggetti soprattutto in quella di destra che è un pochino più grossa rispetto a quella di sinistra e qui possiamo anche andare a inserire come sappiamo qualcosa in più perché sulla fascia lombare non sentiamo particolarmente peso. Per quanto riguarda la chiusura sul davanti con la clip solita anche questa non mi ha dato nessun tipo di problema si stringe molto facile e per quanto riguarda il cordame che avanza questo andrà a sballonzolare davanti alle nostre gambe e non c'è modo di poterlo rinchiudere da qualche parte. Per quanto riguarda gli spallacci sono belli comodi non hanno una sezione molto larga però comunque sono comodi questi lavorano bene dal punto di vista della traspirabilità e troviamo sulla parte dorsale naturalmente la clip per andare a chiuderla che attenzione non ha la parte elastica quindi ci tenderà a farsi sentire un po' chiusi perché quando il nostro petto andrà ad aprirsi questa non asseconderà l'apertura del petto perché non ha la parte elastica e naturalmente c'è anche il fischietto sulla clip di chiusura. Poi troviamo come sempre sugli zaini osperi la possibilità di andare a inserire nella parte superiore la parte dei bastoncini dell'impugnatura per poterli andare a riporre con la parte inferiore qui sotto e qui poter tenerli quindi a portata di mano se dobbiamo per qualche motivo andare a metterli e toglierli in poco tempo. Infine come tutti gli zaini nella parte superiore troviamo le classiche cinghie da andare a tirare per avvicinarci lo zaino alla nostra schiena. Continuando giriamo lo zaino qui arriviamo a parlare della parte che più mi è piaciuta e come vi dicevo troviamo un'apertura decisamente particolare noi siamo abituati ad utilizzare degli zaini che hanno la parte superiore quindi un cappuccio magari ci sono anche le tasche che si vanno a sollevare qui non abbiamo cappuccio per intenderci se io vado ad aprirlo da tutte e due le parti andando ad aprire le cinghie di chiusura tirando la zip guardate questo si apre e qua dentro c'è il ripieno che ho messo adesso però queste zip innanzitutto arrivano fino in basso quindi mi danno modo di poter aprire completamente lo zaino e poi non ho nessun tipo di cappuccio per intenderci non so se avete presente gli zaini di scuola però siamo a quei livelli lì magari anche lo zaino da ufficio giusto per intenderci non abbiamo la cappuccia in alto ma abbiamo le cerniere col quale poterlo aprire e a proposito di cerniere mi sono piaciuto veramente tanto queste cerniere di osprey sia la parte della cerniera che si chiude sia il cursore che sale perché sono fatte veramente veramente bene non avendo il cappuccio superiore uno potrebbe dire quindi non c'è nemmeno la tasca no osprey ha messo comunque una tasca la tasca si trova qua sopra in questa parte è una tasca a rete che va a infilarsi all'interno dello zaino qui c'è un pro e un contro il pro è che la tasca è facilmente utilizzabile non ha nessun problema il contro è che quando andiamo a riempire lo zaino tipo in questo caso che veramente l'ho riempito al massimo qua dentro non ci sta praticamente nulla perché andando a riempirsi andando a occupare lo spazio proprio all'interno della sacca dello zaino se lo zaino è pieno non c'è il spazio dove andare a per l'ulteriore materiale quindi questa sacca si si utilizza bene è veramente comoda se lo zaino non è riempito al massimo continuando qui davanti troviamo altre due taschine una verticale in cui poter andare inserire una cartina qualche altro oggetto quello che più abbiamo bisogno è un'ulteriore tasca da qua sopra in orizzontale dove magari poter andare inserire occhiali da sole una bandana e anche qua naturalmente se lo zaino è particolarmente pieno non ci sarà nulla dentro neanche in questa tasca continuando a parlare di tasche poi nella parte inferiore troviamo la classica tasca dove andare a riporre un sacco a pelo per esempio questa funziona bene è abbastanza ampia però non è collegata con la parte superiore sono due camere completamente divise volendo si riesce a sfruttare tutta l'altezza dello zaino perché comunque la tasca la si può appiattire sul fondo però le due tasche quella inferiore quella superiore non sono collegate e qua fuori come potete vedere troviamo anche la possibilità di andare ad aggiungere una tenda un sacco a pelo comunque del materiale esterno per quanto riguarda il laterale ve lo faccio vedere magari da questa parte troviamo una cinghia dove poter andare a comprimere lo zaino e sotto la possibilità di andare inserire una borraccia la borraccia riusciamo sia a metterla che a toglierla anche da soli senza farci aiutare da qualcun altro e questa tasca mi è particolarmente piaciuta perché è molto ampia davvero molto ampia qua dentro ci si può caricare anche un cavalletto fotografico non troppo grosso naturalmente perché poi sopra abbiamo anche la seconda fettuccia dove poter andare a chiuderlo e a serrarlo così che non si muova e questa naturalmente ci aiuta anche a serrare lo zaino per ridurne le dimensioni stessa cosa troviamo dall'altra parte speculare uguale però c'è un particolare di questo zaino che non mi ha particolarmente convinto ovvero tutta la struttura quella fatta in alluminio mi spiego meglio allora non voglio che pensiate che lo zaino si fletta o roba del genere no l'alluminio è un buon materiale e lo zaino anche con 10 kg non ha mai avuto questo tipo di problema il problema è che come potete vedere arriva fino in fondo la parte di alluminio cioè qui è duro e io quando vado ad appoggiare questa parte su rocce e materiali sconnessi via dicendo va bene che qua c'è un piccolo rinforzo messo da osprei ma alla lunga si sta rovinando cioè qui a fuori di appoggiarlo sulle rocce si sta rovinando perché è veramente molto dura e naturalmente parte dura contro parte dura si vanno a sfregare che dire secondo me osprei avrebbe dovuto magari tenerlo un pochino più all'interno non evitare che esca così tanto tutta la parte dura dello zaino perché veramente alla lunga potrebbe andare a rovinarsi molto seriamente e naturalmente il problema lo troviamo da una parte ma c'è esattamente anche dall'altra anzi adesso che vedo di qua si sta rovinando ancora di più rispetto che l'altra in bastoncini inoltre possiamo rimetterli anche da questa parte posteriore se non dobbiamo utilizzarli per tanto tempo considerato che abbiamo anche un'asola particolarmente grossa dove poter andare a riporre anche una piccozza per quanto riguarda il comparto acqua allora abbiamo come vi dicevo la possibilità di poter portare le borracce è compatibile con le sacche idriche tipo camelback con anche la possibilità di far uscire il tubicino sul davanti ha anche il rain cover integrato posto nella parte inferiore che prova a coprire solamente lo zaino se dobbessimo mettere qualcosa di fuori questo rain cover non riuscirebbe a coprirlo in generale quindi mi è piaciuto questo zaino sì mi è piaciuto soprattutto per la tasca che si apre così a modi valigia vogliamo dirla così a me è piaciuto perché è molto sfruttabile mi è piaciuto perché è uno zaino comunque che utilizzato in tante escursioni magari escursioni anche giornaliere mostra il meglio di sé è uno zaino che però tenderei a utilizzare nelle mezze stagioni quindi magari la primavera e l'autunno perché come vi dicevo lo schienale non è il massimo è comunque uno zaino dall'ottima qualità cioè i materiali di osprei veramente fanno invidia cioè lo zaino l'ho sbattuto ovunque non ha nessun graffio ho altri zaini osprei che ho utilizzato e alla lunga non danno nessun problema davvero sono degli zaini dai materiali veramente buoni però questo zaino a mio parere ha un rapporto qualità prezzo non all'altezza cioè il prezzo è troppo elevato rispetto a quello che offre detto ciò ragazzi nella speranza di essere stato esauriente e esaustivo anche per questo video io vi ringrazio per l'ho guardato e ci vediamo al prossimo ciao